Continuiamo dalla gara da Marathon e facciamo la variante e invece di andare giù da quella della gara, che arriva qua sotto i Lumini, andiamo dritti a fare quella che si chiama di Asta Crocetta. Alla cieca oggi anche. Alla cieca, alla cieca. Comando Davide, guidaci, guidaci. Tutti qua, Kai Crocetta. Caparino, Gaon, bisogna ottenere giù di qua. Possiamo scendere adesso? Sì. 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 Alla prossima 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 Alla prossima